A distanza di una settimana dall'avvio della preparazione a Teramo continua il toto allenatore, così come il toto direttore sportivo. D'altronde sono le due figure che mancano e sarebbero centrali per la costruzione dell'organico futuro. Che poi tanto futuro non è, perché tra poco più di 40 giorni ci sarà il fischio d'inizio del campionato. Per quanto concerne il DS scendono le quotazioni di Sandro Federico a cui il contratto non è stato prolungato lo scorso 30 giugno. Se la dirigenza avesse creduto nella continuità del suo lavoro non lo avrebbe certamente lasciato senza vincolo e sarebbe quantomeno particolare ora richiamarlo a distanza di 20 giorni. Perché sarebbe ammettere implicitamente che è l'unica strada percorribile. A quel punto lo stesso Federico potrebbe non voler più proseguire l'avventura in bianco-rosso dopo essere stato accantonato per tre settimane. Dunque il presupposto è che il Teramo stia lavorando ad una soluzione alternativa. Anche non di primo piano, visto che Iachini ha ammesso la vicinanza a personalità del mondo del calcio, come ad esempio quella di Alessandro Ruggeri, figlio di Ivan, ex presidente dell'Atalanta e che ha guidato il sodalizio bergamasco prima dell'avvento della famiglia Percassi. L'idea sarebbe quella di promuovere alla carica di direttore sportivo qualche figura già presente all'interno del club e fargli fare esperienza in Lega Pro puntando su acquisti comunque molto green. L'attività di screening di Iachini insieme a Ruggeri potrebbe dunque dargli supporto e portare presto delle novità sia in panchina che in mezzo al campo. Nei giorni scorsi era stato contattato per il ruolo di allenatore anche Gigi Ervese, tecnico della primavera del Pescara, ma i contatti si sono interrotti e non sono più ripresi dopo l'iniziale abboccamento. La soluzione interna, pensata e vagliata in maniera concreta, non ha portato alla fumata bianca. Resta sempre in piedi la candidatura di Guidi che non è mai uscito dai radar ma che ha un contratto con la casertana e finché i falchetti campani non avranno la sentenza definitiva dell'esclusione o ammissione al campionato da parte del collegio di garanzia del CONI, Guidi ha un vincolo valido con il rosso-blu. Solo successivamente, qualora l'ultimo grado della giustizia sportiva dovesse dar torto alla casertana rispedendola tra i dilettanti, il tecnico sarebbe svincolato e magari pronto per una nuova avventura. Poi comunque ci sarebbe anche da fare mercato, visto che allo stato attuale il Teramo può contare su 15 giocatori e nessuno di quelli svincolati è tornato finora sui propri passi, come ha detto qualche giorno fa Iachini durante i premi Rodomonti. Bombaggia il Catanzaro come Tentardini, Ilaria il Cesena, Lewandowski vicino al Gubbio, Di Francesco che rientrava all'Ascoli dal prestito affermato per il Campobasso, anche Cianci tornato in bianco-rosso andrà via e il diavolo, dopo aver mancato l'obiettivo di incassare 500.000 euro dal Sassuolo, proprio ai nero-verdi, dovrà corrispondere la metà dell'eventuale cessione dell'attaccante, qualora il Teramo riesca a darlo via. Su Diachite e Piacentini tante voci, tantissime, ma finora i due difensori sono ancora in bianco-rosso, così come Santoro, che piace sia a molti club, ma senza esborso eccessivo di danaro. Il diavolo potrebbe tenerli a rimpolpare l'organico con qualche ragazzo del settore giovanile, ma serve un direttore sportivo e serve un allenatore. D'altronde, noi di prossimo c'è il raduno e per quella data le due caselle andranno riempite per forza di cose.